Stasera c'è poco da dire, pochissimo. Non c'è stata partita assolutamente. Complimento a Sant'Animo che ha giocato bene, lineare, facendo le cose semplici e ha vinto una partita. Noi non lo so, non c'è stato assolutamente atteggiamento da squadra che voleva vincere stasera. Non lo so se troppa pressione o meno pressione, fino adesso sono stato in riunione con la squadra. Ora sta parlando il direttore generale, quindi io l'ho lasciato perché giustamente non volevo far aspettare voi ancora di più. Ma c'è veramente poco da dire. Non posso salvare nessuno, non salvo logicamente me stesso perché forse non sono riuscito a motivarli bene. Non lo so, sicuramente così diventa difficile perché se questo è il modo di giocare e di dimostrare che questi ragazzi ci tengono, io sinceramente non posso salvarli perché non ci hanno messo niente stasera. Hanno provato, hanno fatto delle cose, sì ma soltamente tanto poche le cose buone che hanno fatto che non c'è stata storia. E quindi sinceramente faccio fatica a commentare una partita del genere. Non c'è assolutamente niente. Io ho provato in tutti i modi a fare qualcosa a livello di cambiare, cambiare difese, ma stasera qualsiasi cosa gli dicevano non reagivano. Non reagivano, non reagivano. Piano partito logicamente assolutamente non eseguito perché sono preparato delle cose in settimana e assolutamente non l'hanno fatto. Questa è la cosa che non riesco a capire il motivo, se non uno ma che mi tengo per me. Ho poco da dire ragazzi, veramente poco da dire. Faremi domande perché non so che dirmi in questo momento. Sono talmente arrabbiato a dir poco Massimo. Diciamo che sono abbastanza amareggiato, ma amareggiato per l'atteggiamento. Perché abbiamo dettoci una mia volta che è una squadra talentuosa, che non sappiamo ormai però, da settembre a febbraio si è lavorato tanto per cercare di farli migliorare. Sono migliorati secondo me perché hanno dimostrato con squadre, con tutto rispetto ai Sant'Anti, ma che sia chiaro che stasera hanno dimostrato di essere una squadra vera, nonostante gli mancava altri giocatori comunque importanti come Gambarota. Hanno dimostrato di giocare a palacanestro in modo di squadra, ecco, come una squadra. A noi è questa cosa che ci manca. Noi non siamo una squadra, non siamo uniti, ci disuniamo alle prime difficoltà, alle prime falli duri, ci nervosiamo. Siamo troppo, troppo, troppo ragazzini. E poi logicamente i segni che vogliono provare a fare qualcosa in questo momento fanno qualcuno addirittura più danni della grandine. però vediamo un attimo che succede tra oggi e domani e martedì decidiamo come muoverci perché qualcosa bisogna fare da tutti i punti di vista, a partire da me a finire i giocatori. Che significa? Nel senso c'è la possibilità di tagliare qualcuno, di mettere da parte qualche altro? Oppure anche tu fare delle valutazioni? Io ho detto le cose forti alla squadra, davanti al direttore generale. stanno parlando loro, spero di sapere qualcosa tra oggi e domani. Perché io ho detto che se non cambia l'atteggiamento, perché a cambiare i giocatori sapete benissimo che diciamo sempre le stesse cose, non si possono cambiare. Ma mi interessa l'atteggiamento, se non cambia l'atteggiamento martedì la vedo difficile. Quindi mi aspetto una telefonata, piuttosto mi aspetto una risposta, stasera stessa da parte della squadra piuttosto del direttore generale, perché qualcosa bisogna fare. Bisogna dare una scossa forte a questa squadra. Ora che sia il taglio dell'allenatore, che sia il taglio di qualche giocatore, qualsiasi cosa. Ma io ho detto che dà ore di missioni se la squadra non mi seguiva. Lo dico pubblicamente, senza se un problema, perché io credo fortemente in questo progetto. Credo fortemente in questo progetto, credo fortemente in questa squadra. Sono giocatori che ho voluto, sono giocatori che alleno da settembre. Quindi sto facendo di tutto, di più per loro. Però ora basta. Ora basta, ora ho bisogno di una risposta da parte loro. E se la squadra ha bisogno di una scossa forte, che può essere anche quella delle dimissioni dell'allenatore, se vingono io sono l'uomo più felice del mondo, quindi do il dimissionista sia la stessa, senza nessun problema. Però non lo devono dire loro, nel senso che mi devo far capire che sono io il problema. Visto che penso che non è così, nel senso che non credo di essere io il problema con loro, ma è un problema di loro stessi, della loro poca attitudine a fare le nate cose, ma soprattutto nell'ascoltare, allora devono cambiare. O cambiano, e da martedì posso vedere 14, 12, 10, quelli che siano giocatori nuovi, oppure non lo so, la vedo difficile. Assolutamente sì, ma io metto in discussione tutti i sante volte, Giovanni. No, 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 però ti volevo dire una cosa. Stasera, come anche il partito dell'attuale, con le veri e le mandate, per altre ragioni, comunque non si è visto un gruppo, cosa che in altre partite era accaduto. Bravissimo. Il problema è che forse anche dal punto di vista delle rotazioni, questo aggiungere, non è stato proprio scelto bene, non lo so che sia stato scelto bene, anche dal punto di vista duro delle situazioni, secondo me c'è un lungo di troppo. Sì, ci può essere un lungo di troppo, perfetto, però come avete notato, io sto provando a giocare con Silvio da 4. Infatti quello che stavo domando di quello che fa. Sto provando a giocare con Silvio da 4, che è un ruolo che lui può fare, non è nella sua indole, perché ha sempre giocato da 5 a Scauri, però lui è un giocatore che, avendo piedi veloci e avendo una discreta mano, può giocare sia da 4 che da 5. Allora, per cercare di avere una rotazione ampia e per cercare di avere più o meno tutti nello stesso ruolo, sto provando da quando è arrivato Silvio nel 4, con Locci e Dusci e Samu nel 5, ecco Peppe che entra nel 4. Ma io posso benissimo cambiare i quintetti, perché posso benissimo mettere Peppe nel 4, Silvio nel 5, Sasa nel 3, cioè posso provare, con la squadra che ho in questo momento, posso provare un po' tutto. Il problema, credo, che non è un discorso di rotazioni o, non lo so, di gioco. Il problema, mi permetto perché di dirvi, pure perché li conosco un pochino meglio di voi, è un problema mentale, esclusivamente mentale, perché se voi, cioè rifatto caso, noi perdiamo la testa ogni qualvolta iniziamo sotto, sempre, sempre, sempre. Perché non siamo una squadra che ha una forza mentale o ha talento per cercare di salire la china in tempi brevi. Dobbiamo fare sempre uno sforzo in più. E questa è una cosa che alla lunga ci danneggia. Noi con le poche partite che abbiamo vinto, le abbiamo vinte sempre partendo forti, carichi, iniziando i primi quarti o con più 1 o con più 2 o addirittura con più 10. Sempre. Ogni qualvolta iniziamo i primi quarti, quindi inizio partita, mosci, dove becchiamo e qui dobbiamo, siamo costretti a rincorrerli sempre, perdiamo le partite, perché poi non ce la facciamo mentalmente più che fisicamente. Mentalmente. Perché con una relazione ampia, con minutaggi più o meno, escluso forse Domenico, però, metti Bianco e mi fa tre falli. Cambio Marchetti, metto Lorenzo Cherubini e mi fa subito tre falli. Cioè non riesco mai ad entrare in partita. metto Samuel a posto di Locci e sbaglia due detti da sotto e si nervosisce. Metti Dussi e viene stoppato la matrone. Cioè, fai fatica ogni volta a cercare di trovare un equilibrio. Perché questo? Perché se entrano con Cherubini, che non fa subito tre falli, ma cerca di recuperare tre palli, con Bianco, che non fa subito tre falli, ma cerca di fare tre contropiedi, perché io ho sempre lavorato sulle loro caratteristiche e ho sempre detto che devono sfruttare le loro caratteristiche. Se metto Samuel, che gli ho detto, tu devi venire qua a fare, schiacciare i piedi in balzi, stopp, non vuoi più entrare da te, e mi fa due delle app e mi sbaglia da sotto perché viene spinto. Fai fatica. Fai fatica. Però voglio dire, avevi un equilibrio prima che adesso non... Avevo un equilibrio prima che adesso non... Avevo un equilibrio prima che adesso non... Avevo un equilibrio prima che adesso non... No, 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 no. Hai lo stesso Giovinella, comunque... Mi dava... Mi dava qualcosa. Adesso si è rotto quell'equilibrio per inserire questi aspetti ai giocatori, alla fine la squadra ne ha pagato. Poi ci sarà sicuramente un aspetto mentale che è evidente, però dal punto di vista delle... Sicuramente. Sicuramente. Hanno visto tre giocatori nuovi, sono sentiti... Può essere tutto. Poi ci mancava anche Bruno oggi, quindi... Può essere tutto, ma non deve essere neanche un alibi che ci mancava Bruno. Cioè nel senso che io non voglio prendere come alibi, anche se è il mio difensore che tengo. Perché con Bruno io mettevo su Biagio Sergio, non lo so se faceva 20 punti così facilmente. Non lo so. Non lo so. Poteva anche fargli 30. Non ho la controprova. Però io non posso pensare che è Bruno l'unico difensore della mia squadra e gli altri no. Visto che tutti lavorano al stesso modo. È soltanto un fatto mentale. È soltanto un fatto di voglia. Di voler aggredire o no. Di voler difendere o no. Sicuramente l'arrivo dei tre nuovi ha messo in discussione a qualcuno che giocava di più. mi sembra da egoisti non da giocatori di palacanestro. Secondo me. È questa cosa che ho detto allora. Qualcuno pensa di essere meglio di un altro. Invece no. Qua siamo tutti forti e tutti scarsi. Siamo tutti sullo stesso livello. E se non giochiamo di squadra sia in attacco che in difesa qua chiunque viene ci può dare 100 punti. Il problema grosso è quello. Il problema grosso per quanto mi riguarda è soltanto un problema mentale. Mentale. Perché io l'ho visto da riscaldamento che non era una squadra che stasera poteva aggredire l'avversario. Purtroppo. È questa cosa grave. Grazie a tutti.